Alberto, dove sei Alberto? Ti sto cercando dappertutto, mi devi quei soldi, me li devi dare, sono disperato, ti ricordi quegli assegni che mi hai dato? Sono andati a vuoto, non so come cavolo fare, Alberto, dove sei? Esci fuori! Oh, è lì che dice Alberto? Sì, certo, ma lo sai dove è Alberto? È andato alla festa! Andiamo, andiamo alla festa! Festa del Partito Democratico di Sanremo, dal 20 al 24 agosto a Bussani. Ma chi è Alberto? Ma chi sarà? Ma dov'è questo Alberto? Se tutti lo cercano, lo voglio anch'io! Dov'è Alberto? Ma chi sei? Dove sei? Alberto, Alberto, vieni qua!